Il progetto Abruzzo contro il bullismo taglia un importante traguardo, arriva alla sua quinta edizione e in questa occasione si arricchisce di nuovi appuntamenti e novità, al fine di ampliare il numero di giovani coinvolti e di estendere quindi l'area di intervento nel territorio e nella programmazione dedicata. È importantissimo, lo abbiamo fatto in due sedi, oggi all'Alessandrini, dove la polizia postale con il pullman azzurro ha sensibilizzato ad una guida sicura i ragazzi. Quindi ringraziamo la dirigente Letizia Faticati per averci ospitati e oggi è partita ufficialmente la campagna contro il bullismo e cyberbullismo. In collaborazione con la polizia di Stato e la regione Abruzzo abbiamo dato via questo progetto coordinato dall'ingegnere Gian Maria De Paulis che insegnerà ai ragazzi come destreggiarsi nel mondo delle tecnologie digitali. L'edizione 2024 ha quindi l'obiettivo di raggiungere sempre più giovani, famiglie, scuole, docenti e cittadini. Nove gli appuntamenti in provincia di Teramo e uno a Pescara il 19 febbraio. L'obiettivo del progetto è quello di valorizzare l'impegno sociale verso i giovani per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Un progetto importante come è stato dimostrato anche oggi con l'interesse da parte dei ragazzi, un percorso che si sta ampliando, parte da Teramo ma veramente in tutta la regione, forse non solo, anche speriamo oltre i confini della regione, un percorso importante proprio in questa settimana, in questa giornata, un pochino vicino all'Internet Suffer Day, in quanto la sicurezza e l'utilizzo corretto degli strumenti digitali è fondamentale per una crescita sana nei giovani e soprattutto anche in un concetto di cittadinanza digitale. Ovviamente l'appello ai ragazzi è fate attenzione. L'appello ai ragazzi è fate attenzione soprattutto a usare la testa, un pizzico di sana paura che ci aiuta a attendere la manciata di secondo in più prima di cliccare proprio per capire bene cosa si sta pubblicando, perché ricordiamo parliamo di azioni di pubblicazione, qualsiasi essa sia.